buongiorno sono melania mazzucco vi parlo da roma la città nella quale sono nata nella quale ho vissuto pur essendo una nomade dove sono sempre tornata e dove ora sono rinchiusa come tutti gli italiani dal praticamente dall 8 marzo viviamo una situazione estremamente dolorosa assediati dalle notizie dei nostri amici dispersi in italia e anche in europa assediati dalle richieste di contatto dall'impossibilità di avere un contatto reale con le persone cosa che io patisco molto gli scrittori sono fortunati perché quando scrivono un libro parlano direttamente con la loro voce a ciascuno però hanno anche la fortuna nel mondo contemporaneo di poter poi incontrare i loro lettori in qualche modo di avere da loro ciò che essi hanno ricevuto da noi questo contatto adesso ci viene tolto nella solitudine nelle proprie case scrivere e leggere è molto difficile perché non è la solitudine che si può immaginare della torre d'avorio degli scrittori sono case le nostre spesso sovraffollate piene di persone con pochi dispositivi in situazioni tecnologiche abbastanza primordiali in cui ciascuno di noi è stato restituito al suo ruolo originario di avere cura degli altri di cucinare di preparare pranzi cene occuparsi della casa tutto ciò da cui molte donne come me hanno cercato di fuggire tutti questi anni per costruirsi una vita diversa quindi questa è un'occasione per molte di noi per ripensare a ciò che ciò che davvero conta mettere tra parentesi il nostro lavoro e le nostre vite cercare di ricostruire le relazioni personali familiari su altre su altre basi e detto questo il paradosso è che siamo continuamente affacciati sul mondo che si allontana da noi sempre di più quindi non riusciamo a capire davvero che cosa sarà di noi e l'incertezza per un futuro che non riusciamo ancora immaginare ci sta consumando